Ci troviamo a Marsale in Contrada Strasatti, Piazza Fiera, come si evince dalle immagini, due cassette della corrente elettrica sono state aperte in maniera forzata, probabilmente per provare a rubare i cavi di rame. Un fatto naturalmente che lascia l'amaro in bocca in un periodo molto delicato che stiamo un po' tutti vivendo e soprattutto il pericolo che questi cavi, nel momento in cui questi contenitori sono stati aperti, possano essere pericolosi per i passanti. Naturalmente si auspica un pronto intervento di chi di dovere per rimettere tutto a posto e sperare che chi abbia fatto questo atto venga naturalmente individuato.